1-6-6-6-2-2 Direttamente in porta! Segnato a casa sua! Un gol straordinario! Straordinario! Stavano stati 35, forse 40 metri Grandissima punizione Nessuno poteva prevedere un tiro in porta Alla faccia della pavalderia, dell'inconscienza Forse Giovanni ci ha provato e ha avuto ragione Gran gol, gran gol pier Un grandissimo gol, una grandissima punizione Diciamo che forse nessuno di noi che si aspettava il tiro, Pier